Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà, ed essi furono molto rattristati. Quindi, venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero Il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio? Rispose, sì. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra, da chi riscuotano le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri? Rispose, dagli estranei. E Gesù, quindi i figli sono esenti, ma perché non si scandalizzino? Va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene, prendilo. Aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro, per me e per te.